Mentre a Ditea, forso sempre andando a Chiavano a me, ma è un istituto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, che i miei problemi essersi di te si chiamano i guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro, in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuol dirmi che lo sobbicato, ricorda forti un uomo va anche perdonato. E se davvero non vuol dirmi che lo sobbicato, ricorda forti un uomo va anche perdonato.